Dal Vangelo secondo Marco Una buona domenica a tutti. Nel brano evangelico di oggi vengono narrate due guarigioni operate da Gesù. Quella della donna che ha toccato il suo mantello ed è guarita. E poi la rianimazione della figlia di Gairo che era il capo della sinagoga di Cafarnau. L'Evangelista ha inserito in un unico racconto questi due episodi. E noi noteremo che queste due guarigioni hanno in comune dei richiami delle immagini bibliche. Che sono un chiaro invito dell'Evangelista ad andare oltre il puro dato di cronaca materiale. Cioè due guarigioni che Gesù ha operato. Aveva questo potere. Notiamo anzitutto. Si tratta di due donne. E allora il richiamo che ci viene immediato è alla vita. La donna è colei che dona vita. In lei tutto parla di vita. Ricordiamo che nel libro della Genesi quando si dice che l'uomo ha dato un nome alla sua moglie, l'ha chiamata Havva e spiega il testo sacro, l'ha chiamata così perché essa fu la madre di tutti i viventi. Ecco come il primo uomo definisce l'identità della sua sposa, colei che dona vita perché tutto nella donna richiama l'accoglienza della vita. Adesso, che cosa accade a queste due donne del brano evangelico di oggi? La prima, da dodici anni, ha perdite di sangue, quindi è impura. Lo sposo non le si può accostare, non può generare vita. La giovane figlia di Gairo è in età di diventare madre, a dodici anni, può sposarsi, può dare vita, ma in lei la vita si interrompe, muore. Cosa può fare Gesù? Chi rappresentano queste due donne? Ad ambedue è legato un numero significativo che tutti conosciamo, il numero dodici. La figlia di Gairo ha dodici anni, la donna che ha perdite di sangue è malata da dodici anni. Si insiste troppo su questo numero per non capire il riferimento a Israele. Queste due donne rappresentano Israele. La prima, ci dice che Israele è la sposa del Signore che ha abbandonato il suo sposo, è diventata impura, lo sposo non le si accosta più, non può generare. solo quando questa sposa incontra Cristo può venire curata dalla sua malattia, tornare ad essere feconda, a generare quella posterità numerosa come le stelle del cielo promessa ad Abramo. La figlia di Gairo richiama anche lei Israele. è in età da marito, sappiamo che Israele è la sposa del Signore e questa ragazza è nel momento in cui può cominciare a donare vita, ma se non incontra lo sposo, se non è presa per mano dallo sposo, se non è impalmata dallo sposo, rimane morta. L'Evangelista Marco intendeva certamente alludere a questo simbolismo di Israele sposa del Signore che non è più feconda se non incontra Cristo. Ma queste due donne non rappresentano solo Israele, sono il simbolo della condizione di tutta l'umanità che è chiamata a costruire vita, che invece vede questa vita fermarsi e trovarsi in condizione di morte. Voglio richiamare un ultimo dettaglio simbolico che è indispensabile per cogliere il messaggio del brano ed è il significato che ha il sangue nella Bibbia. Lo conosciamo. Il sangue indica la vita. Perdere sangue significa perdere vita. Il libro del Levitico dice la vita di ogni vivente è nel sangue. Ecco la ragione. Per cui il pio israelita non può mangiare carne di un animale soffocato perché in lui è presente la vita e la vita appartiene a Dio. È lui, il Signore della vita. E quindi il sangue va sempre riconsegnato a Dio. L'uomo non se ne può impossessare. Oggi ci troviamo di fronte a due donne. Una che continua a perdere vita. L'altra che l'ha persa del tutto. Teniamo presente. Sono due donne che non hanno nome. Rappresentano la condizione di ognuno di noi come tra poco cercheremo di comprendere. Sentiamo adesso come inizia il racconto. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare e venne uno dei capi della sinagoga di nome Giairo il quale, come lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza La mia figlioletta sta morendo Vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva Andò con lui Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno Il Vangelo della scorsa settimana, ricordiamo ci ha raccontato la burrasca che i discepoli hanno dovuto affrontare per obbedire al Maestro che aveva ingiunto loro di andare all'altra riva cioè di portare lui e il suo Vangelo in terra pagana Il mare si era opposto a questa traversata la barca aveva addirittura rischiato di affondare e sarebbe affondata se non ci fosse stato Cristo su quella barca Poi in terra pagana le cose non erano andate affatto bene perché quando Gesù con la sua parola ha cominciato a scacciare gli spiriti immondi da quella società lo hanno cacciato via preferivano continuare nella loro condizione Il cristiano lo deve tenere presente che il Vangelo che annuncia può essere accolto o può essere rifiutato deve comportarsi come il Maestro rispettare le scelte delle persone lasciare liberi Tornano Gesù e i discepoli e quando giungono a Caffarno trovano una folla ad aspettarli e Gesù comincia a insegnare A un certo punto in mezzo a questa folla si fa largo un personaggio importante Giairo che è il capo della sinagoga conosciuto da tutti e questo Giairo compie un gesto molto significativo si getta in ginocchio ai piedi di Gesù si trova di fronte a un problema che lui non può risolvere si sente impotente di fronte alla morte che si sta avvicinando per rapire la sua figlia lui ha dato la vita biologica a questa figlia ma adesso vede che questa vita giunge alla fine e lui non può farci nulla è ciò che accade alla nostra umanità l'uomo non genera altra vita che è quella destinata alla morte quella biologica quindi ogni nascita in realtà se guardiamo le cose dal punto di vista materiale ogni nascita non fa che accrescere il numero dei mortali difatti arriva sempre la morte a portarsi via questa creatura l'uomo l'unica cosa che può fare è dilazionare questa sconfitta ma alla fine deve rassegnarsi Gairo ha capito che questa è la condizione dell'umanità la sua figlia rappresenta la realtà di ogni uomo ha capito però che Cristo può fare qualcosa opporsi cioè alla vittoria della morte ciò che Gesù farà noi lo vedremo sarà vincere la morte biologica ma questo è soltanto un segno della vittoria vera definitiva che lui è capace di riportare sulla morte cosa dice Gairo a Gesù vieni imponi le mani affinché sia salva e Gesù parte va con lui c'era molta folla che lo seguiva e si stringeva attorno a lui è importante notare la presenza di questa grande folla folla che si accalca attorno a Gesù lo segue lo strattona lo spinge lo intralcia c'è chi vuole tirarlo dalla propria parte chi coltiva anche false attese da lui si aspetta ciò che lui non è venuto a dare non basta stare attorno a Gesù essere entusiasti ammiratori di Gesù no bisogna avere capito che cosa lui ci può dare e c'è in mezzo a questa folla una donna che si accosta a Gesù in modo diverso dagli altri cerca qualcosa cosa che lui può realmente dare sentiamo cosa si aspetta da Gesù ora una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio anzi piuttosto peggiorando udito parlare di Gesù udito parlare di Gesù venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello diceva infatti se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata e subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male il sangue lo abbiamo visto è il simbolo della vita e perdere sangue è perdere vita è la condizione di questa donna che va perdendo vita è l'immagine della condizione dell'umanità da quando nasciamo da quando riceviamo la vita biologica dai nostri genitori ogni istante che passa è perdita di vita possiamo tentare di trattenerla per un po' di tempo in più ricorriamo ai medici ma poi la vita se ne va e tutti i tentativi degli uomini con la loro abilità non sono riusciti a porre fine a questa perdita di vita tentano di bernare di clonare c'è l'ibridazione uomo robot il transumanesimo il postumanesimo gli uomini sono disposti a dare tutti i propri soldi per non perdere la vita ma come dice il salmo 49 per quanto uno paghi non basterà mai per riscattare la propria vita e vivere per sempre allora se la vita se ne va è come una candela che lentamente si consuma e fino a quando alla fine si spegne ed è finito tutto non rimane più nulla che fare per trattenere la vita per illudersi almeno di trattenere la vita per molti significa godersela pensare a se stessi fare ciò che piace questa donna ha sentito parlare di uno che può interrompere la perdita di vita crede in lui e dice se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata smetterò di perdere vita non dice guarita salvata salvezza significa non perdere più la vita si pone l'attenzione qui sulla veste di Gesù il mantello ed è importante ciò che rappresenta questo mantello l'abito è il prolungamento del nostro corpo della nostra persona è il simbolo stesso della persona il nostro apparire esteriore le nostre azioni come gli altri ci vedono ricordiamo come Paolo insista tanto sul discepolo che deve rivestirsi dell'abito di Cristo cioè della sua persona chi incontra un discepolo deve riconoscere in lui l'abito di Cristo appare come Cristo e questo abito lo dice Gesù nel Vangelo di Marco al capitolo 2 deve essere completamente nuovo non un abito vecchio con qualche pezza nuova quest'abito questo mantello che cos'è? non è altro che l'umanità di cui il figlio di Dio si è rivestito noi vediamo Dio in questa umanità questo è il suo mantello è questa umanità che deve essere toccata se vogliamo che la vita rimanga non vada persa e più avanti si dirà che basterà toccare anche solo un lembo di questo mantello e dovunque entrava nei villaggi nelle città nelle campagne collocavano gli infermi sulle piazze e pregavano di poter toccare anche solo il lembo del mantello che cosa significa per smettere di perdere vita bisogna toccare questa umanità di Cristo unire la propria vita a questa sua vita che è una vita donata se tu vivi unito a questa vita il tempo che passa non è perdita di vita ma è vita autentica che non verrà mai distrutta se tu la trattieni per te va persa la vita se tu la doni diventa amore e amore è il divino che è in noi e questa vita donata non è più persa è quello che Gesù dice chi ama la propria vita cioè chi la trattiene per sé egoisticamente la perde ma ogni gesto di amore che tu compi nel dono di te stesso questa è vita conservata e allora la vita di chi ha toccato il mantello di Gesù non è una candela che va consumandosi e poi si spegne senza lasciare traccia ma è come un albero che cresce sempre più fino alla maturità piena dando frutti ad ogni stagione essere salvi quindi significa non perdere più la vita e questa donna ha agito di nascosto è andata alle spalle di Gesù non ha voluto farsi vedere non voleva che qualcuno si accorgesse per quale ragione ha paura si vergogna perché compie un gesto che l'istituzione religiosa condanna in nome di Dio e Gesù non è d'accordo con questa istituzione religiosa e vuole farla finita con quell'immagine di Dio che emargina le persone impure sentiamo che cosa fa e subito Gesù essendosi reso conto della forza che era uscita da lui si voltò alla folla dicendo chi ha toccato le mie vesti i suoi discepoli gli dissero tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato e gli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo e la donna impaurita e tremante sapendo ciò che le era accaduto venne gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità ed egli le disse figlia la tua fede ti ha salvata va in pace e si guarita dal tuo male credo che al posto di Gesù noi ci saremmo comportati in un modo diverso non avremmo chiamato quella donna lì davanti a tutti lei aveva agito di nascosto cercando di non farsi notare da nessuno perché ha vergogna sa qual è la sua condizione e la gente la considera una persona impura che deve essere evitata e poi ha anche paura perché ha violato le disposizioni che la obbligano a stare lontana da tutti come i lebrosi perché se tocca qualcuno andando al mercato lo rende impuro poi si sente anche lontana da Dio perché Dio è il Dio della vita e lei è segnata dalla morte perché perde sangue perde vita come mai Gesù la chiama lì davanti a tutti dice il testo che era impaurita e continuava a tremare vuole che venga fuori allo scoperto perché davanti a tutti Gesù vuol dire che bisogna farla finita con questa concezione che l'uomo sia impuro può compiere azioni impure immonde ma l'uomo non è mai impuro non deve vergognarsi né delle malattie fisiche e nemmeno delle malattie morali bisogna farla finita dice Gesù con questa immagine pagana di Dio che sta lontano e non vuole avere nessun contatto con gli uomini considerati impuri queste sono convinzioni che sono state inculcate dall'autorità religiosa Gesù le vuole cancellare la donna confessa davanti a tutti ciò che è accaduto la risposta di Gesù figlia ecco come Dio considera questa donna che era malata ma questa malattia nel simbolismo di questo racconto indica la condizione di perdita di vita delle persone bene anche chi è in questa situazione è sempre figlio di Dio e notiamo anche che lei è chiamata così nessun altro è della folla Dio non considera nessuno impuro e non vuole che alcuno si senta emarginato perché sta perdendo vita è malato ma Dio lo ama e queste separazioni le hanno inventate gli uomini e Dio le vuole cancellare ed è elogiata per la sua fede lei si è accostata a Cristo non spingendo stratonando perché si può essere folla si può essere ammiratori di Gesù si può partecipare a una sagra paesana non è ancora toccare Cristo toccarlo con fede vuol dire unire la propria vita alla sua e allora si smette di perdere vita Gesù alla fine dice a questa donna va verso la pace verso lo shalom verso la gioia la pienezza di vita adesso tu sai che sei amata da Dio quindi sei davvero nella pace e adesso il racconto riprende con la storia di Gairo sentiamo stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro ma Gesù udito quanto dicevano disse al capo della sinagoga non temere soltanto abbi fede e non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro Giacomo e Giovanni fratello di Giacomo giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte entrato disse loro perché vi agitate e piangete la bambina non è morta ma dorme e lo deridevano chi crede in Cristo tocca il suo mantello si fida della sua proposta lui ti dice dona la tua vita e così smetti di perderla costruisci una vita che rimane anche nel credente però può sorgere il dubbio perché anche lui vede che la vita scorre via e finisce poi con la morte e vede che il destino di tutti è quello del sepolcro quindi la fine di tutto può sorgere anche nel credente allora il dubbio non avrò rimpianti alla fine se ho donato tutta la mia vita non era meglio forse che anch'io me la godessi come tanti fanno ecco ciò che vengono a dire adesso gli amici a Gairo rassegnati la morte ha vinto tua figlia è morta a Gairo e a noi credenti Gesù risponde non avere paura continua soltanto ad avere fede può sorgere questa paura non averla mandala via non aver paura della morte continua a fidarti della mia proposta e Gesù prende con sé Pietro Giacomo e Giovanni e va alla casa di Gairo e in questa casa ci sono lamenti strepiti grida di dolore pianti tipica scena delle prefiche orientali gli uomini di fronte alla morte hanno soltanto fare lutto o imprecare contro il triste destino che è toccato all'umanità destino dal quale nessuno può sfuggire come vede Gesù la morte entra in questa casa e dice perché fate tanto strepito e piangete la bambina non è morta ma dorme ecco l'immagine che viene impiegata da Gesù e che poi è stata ripresa nelle comunità primitive la impiega anche Paolo la morte come un sonno non è la fine è per un risveglio è un'immagine molto povera però se il Signore tocca il morto non è più morto è vivo conclude una forma di vita che è quella biologica ma chi ha donato la propria vita ha mantenuto la vita perché è resa eterna nell'amore lo deridono dicono praticamente ecco qui che è arrivato un altro con un palliativo con una nuova proposta illusoria di risposta all'enigma della morte sentiamo come reagisce Gesù ma egli cacciati tutti fuori prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina prese la mano della bambina e le disse talità cum che significa fanciulla io ti dico alzati e subito la fanciulla si alzò e camminava aveva infatti dodici anni essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare quando giunge nella casa di Ciairo Gesù caccia fuori tutti non sopporta che di fronte alla morte ci siano grida di disperazione pianti lamenti questo modo di fare lutto era motivato prima della sua venuta aveva ragione il Coelet quando diceva che il destino delle piante degli animali e dell'uomo è lo stesso è la stessa vita biologica destinata a concludersi ma adesso è venuto Gesù e ci invita a vedere la morte in un modo diverso non è una cosa cattiva è il destino dell'uomo l'uomo non può essere diverso non può non essere mortale perché non sarebbe più uomo ma questa umanità è stata toccata adesso dal figlio di Dio non ha più soltanto la vita biologica che finisce ma una vita che è stata portata da lui e consegnata proprio quando lui ha toccato questa umanità quando lui si è fatto uno di noi sentiamo come adesso Gesù si rapporta con la morte entra nella stanza dove c'è la bambina e porta con sé dei testimoni i due genitori cioè coloro che hanno dato origine a questa vita che è destinata a finire loro devono verificare la loro incapacità a conservare la vita la vita biologica è destinata a concludersi non può essere resa eterna nemmeno da Dio perché sarebbe una disumanizzazione non saremo più uomini e poi porta con sé i discepoli che devono essere testimoni di ciò che accade quando Gesù tocca questa umanità prende per mano la bambina e le dice talità cum fanciulla io ti dico alzati e geirein vuol dire risorgi da quando il figlio di Dio ha toccato l'umanità la morte è stata sdrammatizzata ha perso il suo pungiglione è stata definitivamente sconfitta facciamo attenzione Gesù ha compiuto un gesto di guarigione ha riportato questa bambina in questo mondo in questa vita biologica come fanno i medici Gesù ha compiuto un gesto prodigioso ma non è questa la vittoria sulla morte la vittoria sulla morte significa donare una vita toccando questa umanità donarle una vita che è quella dell'eterno che quando si conclude la vita biologica questa vita dell'eterno continua questa è la vittoria sulla morte il gesto che Gesù ha compiuto è soltanto un segno del suo potere di donare una vita che vince definitivamente la morte e l'ultima raccomandazione che lui fa datele da mangiare questa vita che lui dona quando tocca l'umanità che è la vita dell'eterno va continuamente alimentata con la sua parola quella sua parola che ci dice questa vita dell'eterno viene alimentata quando tu doni la tua vita per amore cioè ti comporti con la vita che è quella del Padre Celeste auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana che è